Il più grande parco marino a Dubai sorgerà nelle acque cristalline dell'arcipelago artificiale di 300 isole in costruzione a largo della capitale degli Emirati Arabi. Il parco si ispirerà al mito della città perduta di Atlantide e verrà costruito sotto la superficie del mare con possibilità di essere visitato solo da sub e snorkelisti. Per le scenografie che si preannunciano maestose sono stati chiamati gli stessi autori del set di film del calibro di Avatar e del Pirata dei Caraibi.